Un viaggio tra immagini e parole attraverso la grande avventura spirituale ed umana di San Giovanni Bosco, un grande uomo che 200 anni fa ebbe il coraggio di scommettere sui giovani, sul loro entusiasmo e sulle loro capacità. Potremmo riassumerla così, la Società dell'Allegria, la mostra di Rivela, ospitata qui a Villa Franca di Verona, presso la Casa Famiglia San Benedetto. Un'occasione importante per questa realtà che ha fatto dell'accoglienza dei più giovani un caposaldo di vita. Don Bosco ancora oggi è capace di parlare ai giovani, ma è capace, con la sua storia e i suoi insegnamenti, di parlare anche alle famiglie. Perché avete voluto questa mostra? Perché quando abbiamo saputo che l'Associazione Rivela portava qui nel Veronese la mostra di Don Bosco, abbiamo fatto uno più uno. Cioè abbiamo detto, conoscendo un po' la figura di Don Bosco, io sono un ex allievo, abbiamo detto, ma le categorie su cui Don Bosco ha fondato il suo metodo educativo, che sono la misericordia, il perdono, l'allegria, la responsabilità, l'accoglienza, la santità, sono tutte le categorie con cui una famiglia ha a che fare. E quindi abbiamo detto, chi più di noi ha bisogno di imparare a educare e a guardare i ragazzi, figli propri e figli affidati. E quindi abbiamo pensato con gli amici dell'Associazione della Casa, che ci sostengono in tutto e per tutto, di proporre al territorio che cosa Don Bosco aveva da dire alla famiglia. La mostra, inaugurata sabato scorso alla presenza di 250 persone dalla Somma d'Osso Young Band, che riunisce ragazzi dai nove anni in su, è dedicata in modo particolare ai più giovani. È visitabile gratuitamente qui a Casa San Benedetto sino al prossimo 9 maggio, il mattino dalle 8.30 alle 12 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18 e può essere un'ottima occasione per gruppi, comunità scolaresche. Questa mostra è strutturata partendo da quello che appunto è l'ambiente di origine della storia di Don Bosco, quindi la sua casa, la sua storia di quando era piccolo. Quindi raccontando quello che lui faceva da bambino per attirare attorno a sé i ragazzi della sua età, sempre con lo scopo non di portarli a sé, ma di portarli a Cristo, perché lui fin da piccolo è stato un grande innamorato di Gesù. Quindi si parte dalla sua infanzia, poi man mano questo sogno che si sviluppa nel suo cuore di diventare sacerdote e come con grande tenacia lo porti avanti. E oggi, la famiglia di oggi ha una famiglia allargata come la tua, la famiglia comunque tradizionale. Che cosa dice Don Bosco in quest'anno che è particolare per l'anniversario? Ma secondo me Don Bosco dice tante cose. Le cose che adesso mi vengono in mente sono che uno può amare solo se si sente amato, uno può abbracciare solo se si sente abbracciato, uno può generare solo se si sente lui generato. Don Bosco ha imparato queste cose dalla sua mamma, che gli ha trasmesso questa grande fede, questa certezza nella provvidenza e nella presenza del mistero della vita e si è affidato totalmente poi alla chiamata del Signore. Così deve fare una famiglia.